Noi oggi abbiamo assunto tre bersagli, la viabilità per Passo Lanciano che è una viabilità al servizio di un giacimento turistico di rilievo che può dare opportunità ma anche problemi se l'infrastruttura non è funzionante e abbiamo rilevato dei punti di forza e qualche criticità che entreranno nell'agenda di Anas. La seconda tappa, ma non per ordine di importanza, la questione della circunvallazione di Pescara-Montesilvano che può diventare un semiraccordo anulare se si mette in agenda la capacità e possibilità di progettare lo svincolo di Colle Caprino. Si doveva fare 40 anni fa. La terza questione è la Loreto Penne, abbiamo i soldi, i consensi stanno arrivando degli enti locali che molte volte sono i problemi e oggi con l'Anas verifichiamo la condizione della progettabilità. Sono dei sopralluoghi che servono per capire lo stato di alcune realtà, verificare quali sono i nostri stanziamenti, quindi cosa è previsto nel nostro contratto di programma su quelle realtà specifiche e capire come attuarli. La strada di Penne sicuramente ha già un finanziamento, quindi già parte avvantaggiata sotto questo profilo. Stiamo facendo la progettazione, stiamo andando avanti con la progettazione, abbiamo delle difficoltà su alcuni punti, ma pensiamo di risolverle magari facendo degli stralci e dividendo magari l'infrastruttura in più pezzi in modo tale da anticipare quello che è anticipabile per poi ragionare sulle parti più difficili.